Teatro Comunale e Teatro San Filippo, due dei maggiori presidi culturali della città ancora chiusi a 14 anni dal terremoto. Il passo possibile torna a denunciare la situazione perché secondo loro le istanze in consiglio e commissione sono state sempre snobbate. Per i consiglieri comunali che hanno voluto ottenere una conferenza stampa dinanzi al comunale, le uniche risposte arrivate sono quelle che ha dato il sindaco a mezzo stampa per rispondere all'attore Leo Gullotta. Due i dati, per il comunale mancano 5 milioni di euro, la stazione appaltante e il segretariato è in affanno, tant'è che il sindaco ha già detto di voler riprendere in capo i lavori, mentre per il San Filippo mancano fondi per montare le poltroncine, soldi che sono tornati indietro perché per il ministero dovevano essere per interventi strutturali e che il comune ora deve richiedere. Come passo possibile abbiamo fatto un lungo iter non ispettivo, volevamo delle risposte sul perché di questi ritardi, ma non siamo riusciti ad ottenerle né in consiglio comunale a seguito di un'interrogazione e tantomeno in una commissione di garanzia ad hoc convocata. In quella sede riteniamo che è stato altamente inopportuno che gli enti, che comunque sono al tavolo della conferenza dei servizi permanenti, in primis la stazione appaltante, il segretariato generale, ma anche la sovrintendenza, l'USRA e i RUP dei procedimenti, oltre ai direttori di lavori, non solo non siano venuti, ma non abbiano ritenuto di dare nessun tipo di giustificazione. Ecco, questo è un atteggiamento nei confronti non tanto nostri, quanto della città, che ovviamente ha dei cittadini, degli artisti. Abbiamo visto anche l'intervento di Leo Gullotta, che ha avuto la fortuna di ricevere delle risposte, almeno lui dal sindaco a mezzo stampa. Riteniamo che sia un atteggiamento grave, perché i cittadini ovviamente hanno una necessità di riappropriarsi di quei luoghi della cultura identitaria che hanno fatto la storia della nostra città. Però, se non altro, abbiamo, dalle sue parole, avuto due dati importanti. Innanzitutto, la sfiducia nei confronti della stazione appaltante, appunto il segretariato generale ha detta sua oberata di lavoro, e nello stesso tempo il fatto che manchino, e questo è importantissimo, 5 milioni di euro. E allora noi avevamo sapere che fine hanno fatti i soldi, e soprattutto perché non si è riuscito ad intercettare i fondi del PNRR, che sarebbero stati utili all'ultimazione del teatro, e alla riconsegna anche del San Filippo. Grazie.